Se vi interessano le immagini grandi e di qualità e volete sapere come vanno i due nuovi proiettori Sony Laser 4K XW5000ES e XW7000ES, soprattutto vi piace sapere cosa è successo negli eventi della scorsa settimana dell'8 e 9 giugno a Bologna e anche 10 e 11 giugno a Milano, allora ok, nei prossimi 5-10 minuti quello che dirò e che vi farò vedere per molti di voi potrebbe essere molto interessante. Però partiamo un attimo da una premessa, fino allo scorso 25 aprile i proiettori Sony Laser 4K per applicazione on theater, erano solo quattro, con prezzi compresi tra i 13 e gli 80.000 euro. C'era l'entry level, tra virgolette, il 790S da 2.000 lumen e 13.000 euro, poi c'era l'890 da 2.200 lumen e 25.000 euro, poi il 5.000 da 5.000 lumen e 50.000 euro, infine il GTZ 380 da 10.000 lumen e 80.000 euro. Questa era la situazione. Poi lo scorso 26 aprile Sony ha annunciato due nuovi proiettori, entrambi con nuovi chip da 0,61 pollici e risoluzione nativa Ultra HD 4K in 16 noni, però entrambi con sorgente luminosa sempre laser fosfori e con l'annuncio che sarebbero arrivati prima dell'estate. Abbiamo ricevuto da Sony entrambi i proiettori sei giorni prima dell'annuncio, li abbiamo analizzati a fondo e potete trovare le misure e tutte le mie considerazioni nell'articolo che è segnalato in descrizione. Ebbene questi due proiettori sono molto molto interessanti per due motivi differenti tra di loro. Il primo proiettore è straordinario per il rapporto valida prezzo perché costa circa 6.000 euro, quindi circa la metà del vecchio 790, ma ha un flusso luminoso praticamente identico tra 1.700 e 1.800 lumen, ha un rapporto di contrasto anche questo molto simile circa 10.000 a 1, però ha un triangolo di gamut, questo nuovo proiettore, che è addirittura più ampio rispetto al 790 e anche all'890 senza rinunciare a un solo lumen. Poi c'è anche la stessa elettronica del GTZ 380. Molte persone però non si fidano perché il chip è più piccolo, l'obiettivo è più piccolo, è anche più limitato lo zoom, anche il lens shift, lo zoom è 1,6x contro il 2x degli altri proiettori e poi l'ottica è completamente manuale e quindi la domanda che viene fatta spesso è ma non è che Sony ha risparmiato un po' troppo con questo nuovo prodotto? Ebbene dopo averlo analizzato, calibrato e anche dopo aver visto il risultato, l'idea che mi sono fatto, che poi condivisa da tutti quelli che erano in questi due eventi, è che no, la qualità è ancora straordinariamente elevata e per alcuni aspetti l'XW 5000 è addirittura più interessante rispetto al 790 e all'890 e non solo per il rapporto qualità-prezzo. Per quanto riguarda invece l'ottica, se avete uno schermo 16-9 e quindi non avete necessità di cambiare formato, l'ottica motorizzata non vi serve. In più questo obiettivo particolare è una ghiera per la messa a fuoco con un elevato fattore di demoltiplicazione, quindi ruota tantissimo fino a 360 gradi e quindi è molto facile trovare il miglior compromesso per la migliore messa a fuoco. Poi anche c'è una frizione particolarmente dura a garanzia di non perdere mai il fuoco neanche se ci sono vibrazioni o escursioni termiche. L'altro proiettore è il nuovo XW7000S che è altrettanto straordinario ma non solo per il rapporto qualità-prezzo. Certo costa 15.000 euro anche se il flusso luminoso è più elevato del 60% rispetto al 5.000. Ed è il primo proiettore laser 4K di qualità per applicazione a un theater con più di 3.000 lumen reali al di sotto dei 50.000 euro. Per essere ancora più espliciti, fino a ieri per riempire schermi di generose dimensioni c'era il Sony WW5000ES, un proiettore da 5.000 lumen dichiarati che poi in realtà dopo la calibrazione erano poco meno di 3.700, con un rapporto di contrasto nativo inferiore a 5.000 lumen e soprattutto con una copertura del triangolo di Gamut che andava poco oltre il REC709. Il vecchio 5.000 quindi S è anche molto grande, non particolarmente silenzioso e costava comunque 64.000 euro poi ridotti a 50.000 euro. Questo nuovo XW7000S invece riesce a generare ben 3.200 lumen reali anche dopo la calibrazione con un rapporto di contrasto che più che doppio, infatti arriva fino a 13.100 e sfiora per il momento il 90% del Gamut DCI-P3. Dico per il momento perché questi sono modelli di pre-serie e di solito quelli di produzione vanno decisamente meglio. Arriveranno quelli di produzione durante l'estate e cercherò ovviamente di verificare i primi esemplari. Comunque l'ottica del 7000ES sicuramente più grande rispetto a quella del 5000ES, il lens shift è più esteso, lo zoom è 2,1x e la qualità è sicuramente superiore rispetto a quella dell'altro protettore più piccolo. Vi basti pensare che a Bologna nella sala un theater principale di audio quality abbiamo riempito il gigantesco schermo Darkstar 9 da 3,6 metri di base così bene che ho potuto misurare finalmente in quella sala ben 92 nit al centro dello schermo e addirittura 97 nel bordo superiore dove evidentemente il fascio luminoso è perfettamente perpendicolare alla superficie dello schermo. Con il modello XVW 5000ES invece quasi al limite del rapporto di tiro quindi in posizione sfavorevole per il flusso luminoso complessivo sullo stesso schermo generavo poco meno di 50 candele su metro quadrato sempre al centro. Sempre nella stessa sala di audio quality abbiamo usato un vecchio lettore Oppo 203, un lettore Blu-ray universale, un Nvidia Shield con Plex e anche Codi in qualche caso e tutto a valle del nuovissimo PreStorm Audio Elite MK2, un decoder da 24 canali discreti Dolby Atmos, poi c'era anche un Madi VR Extreme che abbiamo anche staccato e riattaccato per verificare le prestazioni con o senza il processore video. E poi c'era la parte audio con i diffusori Wisdom Audio con un nuovo centrale spettacolare, i due sub JL Audio F113 e l'amplificazione classica Datasat e Rotel. Un sistema che può essere descritto con una sola parola, emozionante e in grado di generare pressioni indistorte veramente notevoli. Trovate la nostra analisi di questa seretta nel link che abbiamo sempre in descrizione. Durante le due giornate ho condiviso le presentazioni con Francesco Aliotta di Audio Quality. Abbiamo mostrato varie clip da Matrix Resurrection, è stata la mano di Dio, Aquaman, Encanto e La La Land per i colori, anche West High Story, poi anche Le Mans 66, anche The Batman, quest'ultimo con una qualità video quasi peggiore di un DVD ma con una traccia Dolby Atmos molto interessante. Venerdì invece ci siamo trasferiti da Videocel per allestire due sistemi completamente differenti. Il piccolo XW5000S è stato sistemato nella sala K-Space, nella sala audio di Videocel e ha illuminato uno schermo ALR da 100 pollici, quindi da circa 2,2 metri di base, con il proiettore a circa 4 metri di distanza e quindi con un rapporto di tiro di circa 1,81. Dopo la calibrazione sono arrivato ben oltre le 100 candele, comunque mi sono fermato lì, finalmente un valore che permette di riprodurre i contenuti HDR in modo particolarmente felice. Nella sala c'erano due impianti audio che condividevano le stesse sorgenti, un lettore universale Revon UBRX100 e uno streamer della Melco Audio, il modello N100 con un doppio harddisk interno, ma anche con certificazione RUN e compatibile con i più importanti servizi streaming, inclusi ovviamente Kobuz e Tidal. Il primo impianto prevedeva due diffusori da pavimento Qacoustics, i modelli Concept 50, pilotati da un integrato Denon nuovissimo, il PMA 1700 NE, con una sezione digitale di qualità. Per la riproduzione dei contenuti multicanali invece abbiamo utilizzato una nuovissima soundbar, la Denon Home 550, con satelliti wireless Denon Home 150 e con subwoofer wireless sempre Denon Home Sub. Entrambi i sistemi hanno sfoderato prestazioni insospettabili per estensione in frequenza, dinamica e soprattutto per la capacità di raggiungere livelli di pressione sonora ragguardevoli, soprattutto per lo spazio e senza distorsione apprezzabile. Il Sony XW7000S invece Davido Sello abbiamo installato nella sala Ellipse per illuminare il gigantesco schermo OS Screen fonotrasparente, curvo e multiformato da 4,06 metri di base, uno schermo con un gain reale misurato da me di 0,7 e una superficie complessiva virtuale di circa 9,3 metri quadrati. Dopo la trattura ho misurato ben 72 nit al centro dello schermo, ovvero circa 3000 lumen effettivi generati dal proiettore, ovvero un livello di luminanza finalmente adeguato per poter visualizzare su quello schermo anche contenuti HDR. La sala Ellipse di Videocell ospita due diversi impianti audio. Per l'occasione abbiamo ascoltato la combinazione con diffusori attivi frontali e centrale della Meridian e poi c'erano i diffusori surround, back surround e quattro subwoofer invece MK sound. Il tutto con decoder Trinnov altitude 32, amplificazione Anthem e una calibrazione certosina del Trinnov a cura di Stefano Meraviglia di Videocell che ha decisamente catturato la mia attenzione. Per Videocell ho scelto un programma leggermente diverso rispetto a quello di Audio Quality, dando leggermente più spazio alla musica ad esempio con clip in REC 709 dall'ultimo Blu-ray disc di John Williams a Berlino e poi quasi lo stesso programma in realtà scelto per Bologna quindi con i soliti Matrix, Aquaman, Encanto, La La Land, Le Mans e anche qui abbiamo rivisto Batman giusto per far soffrire un po' il nostro pubblico. Da Videocell non ho utilizzato un processore video esterno ma grazie ai livelli di luminanza raggiunti particolarmente elevati il tone mapping dei Sony benché ancora di tipo statico mi ha permesso comunque di riprodurre tutti i dettagli con compromessi accettabili anche Aquaman che sicuramente non è semplicissimo. Il road show Sony con i due nuovi proiettori continua con i prossimi appuntamenti. Mercoledì pomeriggio saremo da Hi-Fi di Prinzio a Chiti Scalo e poi ci sarà nel weekend il doppio appuntamento a Roma per sabato pomeriggio e domenica mattina all'interno dell'auditorium Parco della Musica assieme a Marco Cicogna. Tutti i dettagli anche qui sotto nel link nella discursione.